Sì, ora l'angolo dell'attualità con l'ospite insieme a Giacomo Serreli. Sì, per provare a dare un'occhiata a quella che è la situazione economica isurana, purtroppo ancora contrassegnata da tanti momenti di crisi. Non ci sono soltanto le crisi che attraversano i grossi complessi industriali, con l'avvertenza di Alcoa, che è un po' la grande madre in questa fase. Anche altre aziende, che pure sono nate con successo e con buone speranze, non molti anni fa, stanno attraversando adesso momenti particolarmente difficili. È il caso della Energit, una azienda che è nata a Cagliari oltre 15 anni fa, nel 2000, proprio per fornire energia a famiglie e aziende. Una azienda che è passata di mano nel corso di questi anni, nel 2012, quindi quattro anni fa, a un passo dalla liquidazione dopo le decisioni che erano state assunte dalla società Elvetic Alpic, che ne era la proprietaria. Una azienda che ora è alla ricerca di nuovi possibili acquidenti, per avere nuova linfa, per rilanciare questa azienda che dà lavoro a 50 dipendenti. In questi giorni hanno dato vita a una nuova serie di manifestazioni, per dare un po' visibilità a questa loro avvertenza. Noi tentiamo di fare intanto il punto della situazione con Nadia Puddu, che è una rappresentante sindacale della RSU, della CGL dell'azienda, che abbiamo con noi al telefono. Buongiorno Nadia, intanto grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo sottolineato le difficoltà che Energit ha dovuto superare, sta tentando di superare da qualche anno, si è arrivati a un passo dalla liquidazione, c'è un'assemblea permanente che voi avete dato vita. L'abbiamo proclamato in questa settimana. Ecco, qual è la situazione al momento, Nadia, per ripelogarla ai nostri ascoltatori, e perché c'è questa situazione di crisi che interessa questa azienda, che tra l'altro negli ultimi tempi si è affacciata anche nell'ambito delle sponsorizzazioni sportive, se consideriamo la sua presenza nell'ambito del Cagliari Calcio e del basket del GUS Cagliari. Perché siamo in questa situazione e qual è questa situazione, Nadia, se ce la puoi riassumere? Allora, sì, noi siamo in questa situazione, come ha detto lei, nel 2012 abbiamo superato un forte periodo di crisi, con appunto il passo vicinissimo alla liquidazione della società, che è stata acquisita da una società siciliana. Diciamo però che la situazione di difficoltà ha continuato in questi anni a permanere. La società, la proprietà nel 2015, ha deciso, appunto per superare questo stato di crisi e rilanciare l'attività, di allargare la base societaria cercando un nuovo socio, che è anche stato trovato, infatti nell'estate del 2015 si era affacciata la società inertronica, una società di frosinore quotata in borsa, che aveva appunto acquisito il 51% delle quote azionarie. E noi a quel punto con grande fiducia abbiamo accolto il nuovo socio, sperando di poter tornare ad essere protagonisti nel mercato. Purtroppo però lo scorso dicembre Enertronica ha annunciato la retrocessione dall'operazione di acquisto. E a questo punto, vista questa situazione, il management dell'azienda ha pensato che la migliore soluzione per poter rilanciare l'azienda stessa fosse un'operazione di management buyout, un acronimo NBO. Attraverso questa operazione, grazie anche al supporto di partner finanziari ed industriali, quello che si vuole fare è acquisire la proprietà dell'azienda. Cioè voi stessi dipendenti, in buona sostanza, o parte di voi dipendenti? Esatto, infatti questa operazione ha trovato anche da subito l'appoggio dei dipendenti, data anche la forte volontà di tutti noi di uscire da questa situazione di incertezza e di ripartire, puntando soprattutto sulle elevate professionalità che ci caratterizzano e sull'attaccamento alla nostra azienda. Non a caso, proprio all'esterno della sede della vostra società, in via Ienner era comparso anche questo striscione abbastanza esplicito, basta a Voltoi Energy te la compriamo noi. E a che punto siamo di questo possibile passaggio, Nadia? Allora, la nostra richiesta in questo momento alla proprietà è che venga garantito un iperdecisionale trasparente, corretto ed imparziale, trattando la proposta di acquisizione tramite l'operazione di management buyout in condizioni di perfetta parità con le altre trattative che la proprietà ci dice in questo periodo essere in corso. Al momento, per quanto abbia manifestato la proprietà delle aperture, non si è ancora concretizzato un passo serio in tal senso. Per cui voi siete ancora in una situazione di attesa. Io ricordo soltanto un altro dato di carattere economico che ci può servire, può tornare utile anche a quanti ci ascoltano per fotografare meglio anche la consistenza e la realtà di questa azienda. Nel 2014, quindi l'anno prima che si presentasse la società di Frosinone con l'annuncio dell'acquisizione del 51% delle quote di maggioranza, Energy estava chiuso con un fatturato di 48 milioni, aveva distribuiti nel territorio regionale 25 mila clienti. Insomma, quindi era un'azienda che comunque una parte di solidità probabilmente poteva manifestare. Sì esatto, proprio su questo noi puntiamo anche per rilanciare la nostra azienda, sapendo di avere un patrimonio e infatti stiamo tutti quanti noi continuando a lavorare per mantenere questo patrimonio, soprattutto nel caso in cui dovessimo riuscire a concretizzarsi questa operazione di management buyout e quindi noi dovessimo diciamo diventare anche più protagonisti, è fondamentale che non si disperda questo nostro patrimonio. È una procedura credo almeno un po' simile. Diciamo che la prima, l'Italia sarebbe nel mercato dell'energia elettrica e per certi versi appunto simile ad altre. Tipo in Sardegna quello che è accaduto col salomificio muro di Irgoli per esempio. O anche più recentemente forse la vicenda dei supermercati Selargeus che sono stati rilevati dai dipendenti. Nadia allora noi direi che non possiamo che attendere a questo punto un possibile sviluppo positivo di questo vostro confronto con l'attuale proprietà in questa richiesta che voi avanzate di una parità di trattamento insomma in quelle che possono essere le trattative future anche con possibili altri acquirienti che comunque nuova linfa di carattere economico possa essere data a questa azienda perché voi lo avete sottolineato anche nei volantini che avete distribuito non più tardi di una settimana fa allo stadio prima della partita del Cagliari con l'Entella. Con il talento si vincono le partite ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si vincono i campionati e voi siete a un passo almeno la vostra speranza è di arrivare a vincere questo campionato. Esatto, infatti questo slogan ci rispecchia in pieno perché noi ci sentiamo un gruppo vincente che in questi anni si è già aggiudicato alcune partite e che ora vorrebbe vincere appunto come diciamo nel volantino il campionato rilanciando pienamente l'attività della nostra azienda grazie appunto alla nostra professionalità, alle elevate professionalità che ci caratterizzano. Ed è il nostro augurio, quello che rivolgiamo a lei e tutti i suoi colleghi all'Energet insomma per un futuro un po' più eroso. Grazie molte Nadia. Te ringrazio per l'opportunità che ci avete offerto. Grazie, grazie a Nadia Puddu dell'RSU CGL di Energet con la quale abbiamo tentato di fotografare insomma quest'altra situazione di crisi che purtroppo investe l'apparato economico isolano.